salve amici e amiche inizio il video di oggi con un breve studio di quello che sta avvenendo nei cieli europei questa mattina ci sono state le solite operazioni di pattugliamento della zona del mar nero almeno la zona settentrionale del mar nero in particolare con particolare attenzione alla zona della crimea quest'area qui infatti un river joint della raf della royal force è appena rientrato dopo un pattugliamento di ore di questa mattina e così sta facendo anche un p8 poseiton entrambi questi aerei sono grossi aerei sviluppati a partire dai modelli passeggeri adattati per ruoli militari che hanno molto personale militare a bordo e diversi sensori per la guerra elettronica e l'ascolto delle comunicazioni e le rilevazioni radar ad aria quindi fanno sono aerei specializzati per studiare ascoltare le comunicazioni da parte russa per fare scansioni al suolo e in particolare per esempio questo p8 poseidon questo aereo qui è pensato anche come nel ruolo di ricognitore marittimo può lanciare delle boe può addirittura lanciare dei missili insomma è un po' come l'aereo che prendiamo della ryan air però versione militare con una sofisticatissima suite di sensori quindi questo è quello che fanno i nostri aerei della nato nei cieli del nord nord settentrionali del mar nero madonna un'altra cosa interessante questi voli di f16 rumeni che stanno pattugliando anche questi la zona nord ovest del mar nero e fra l'altro con un volo di circa un migliaio di chilometri questo aereo sta rientrando da un rifornimento in volo immagino questa è una mia speculazione che stiano facendo degli addestramenti insieme a possibili mirage greci visto che questo f16 l'ho visto fare questo tipo di tracciato che mi dà proprio l'idea di una simulazione di combattimento aereo da tutta questa mattina vediamo voli di aereo cisterne in tutto il mediterraneo orientale questo per esempio è un nostro boeing 767 un aereo cisterna questo aereo è dotato fra l'altro per la lunatica militare italiana in realtà è un aereo multifunzione può svolgere diversi ruoli ma comunque nel suo ruolo di aereo cisterna può fare rifornimento in volo a aeroplani che hanno la cosiddetta sonda questa qui vediamo se ve la mostro dovrebbero esserci ecco un mirage la sonda e sondino sia aerei che hanno invece un dispositivo che accoglie il tubo quindi il nostro il nostro tanker può fare sia rifornimento con i cestelli che con la sonda orientabile ok quindi questa è la situazione come vedete il nostro aereo cisterna si sta dirigendo verso il medio oriente in questo momento la situazione è questa poi ci sono diversi aerei logistici soprattutto tutta l'ucraina orientale occidentale in arrivo e in partenza altri aerei militari non si vedono perché chiaramente quando non vanno a interessare le rotte commerciali quando dove devono essere insomma si devono interfacciare con le rotte commerciali per evitare collisioni per comunicare alla loro posizione spengono qualsiasi dispositivo di semplicisticamente viene chiamato transponder in realtà non è il transponder però quello è andiamo avanti iniziamo a parlare di putin ieri ha fatto 72 anni questo corteo che lo ha visto tornare non so da quale manifestazione a velocità non so se è vera questa notizia però siamo abituati a vederlo sfrecciare a velocità assurde addirittura in un video vi avevo postato le immagini in cui era scortato a distanze ravvicinate da elicotteri bellissima questa foto che lo ritrae la sua classica nel suo atteggiamento e questa è una torta confezionata per lui proprio per il suo compleanno andiamo avanti allora putin ieri fra l'altro ha firmato una legge che sospende il monitoraggio della situazione demografica in russia fino al 2029 non sappiamo se lui sarà ancora vivo nel 2029 io spero di sì ma dietro le sbarre onestamente ma in un posto veramente sperduto con una maschera di ferro magari in qualche sotterraneo molto molto profondo in stile medievale ora ha firmato una legge che smette di monitorare la situazione demografica in russia questo perché l'ho visto già in altri video precedenti perché c'è un crollo demografico allucinante in russia che non è solo dovuto al cosiddetto invecchiamento della popolazione per un problema che abbiamo anche noi ma è il fatto che chiaramente le condizioni per la crescita demografica non ci sono il paese è in una guerra oltre mezzo milioni mezzo milione di soldati spariti una stampa e i media che continuano a fare il lavaggio del cervello e promuovono un vero e proprio ritorno a un ambiente simile a quello di 1984 di george orwell quindi onestamente se voi foste una coppia con quali presupposti si potrebbe fare dei bambini per questo motivo oltre al crollo demografico cioè il fatto che non nascono figli si parla anche di crollo della fertilità e come gundarov uno dei massimi esperti medici in russia denunciava qualche mese fa e continua a farlo il problema della fertilità non è dovuto al fatto che le donne russe vogliono emanciparsi e vogliono studiare quanto piuttosto al fatto che non ci sono le condizioni per fare figli cioè con quale con quale presupposti fai dei figli in un paese così dai onestamente e quindi è un problema serio di conseguenza la soluzione del cremlino qual è smettiamo di seguire i dati e facciamo finta di niente fischiettiamo è buona buona lì ovviamente la soluzione ai problemi demografici è dare una pecora alle famiglie che hanno perso il maschio di casa in guerra cioè nei villaggi sperduti della russia dove le persone sono partite volontarie per il conflitto nel caso in cui il soldato perde la vita e non può tornare indietro la famiglia viene risarcita con una pecora quindi sicuramente la pecora può dare un aiuto in termini di per sfamarsi però non sostituisce insomma se si tratta di problemi demografici non credo proprio che una pecora possa aiutare ecco in termini demografici magari ecco può dare sollievo passatemi il termine ma solo per quelle persone non voglio andare avanti in questo discorso scusate allora passiamo passiamo oltre in qualche modo questo ve lo dico perché sta ribalzando da diverse fonti la alexandre obukov è stata disabilitata dalle forze speciali ucraine infiltrati si parla di intelligence e operazioni speciali come è stato fatto beh circola questo video in cui si mostrano i danni al motore cioè in realtà è sparito un componente della turbina per cui quei componenti che la russia non può fabbricare quindi sarà un grosso problema quindi per il momento la nave è stata disabilitata tutto questo se seguiamo il sito almeno del the key indipendente è avvenuto presso il porto vicino a kalingrad nell'europa del nord quindi tanto lontani dall'ucraina però in qualche modo sono riusciti a disabilitare questa dragamine da 60 metri e quasi mille tonnellate armata con una gatlin e dei missili dei lanciamissili igla per l'autodifesa sono dei piccoli missili termici bene allora qualche aggiornamento dal fronte non ci sono grossi cambiamenti cioè ci sono però sono pochi da parte russa dove hanno consolidato alcune posizioni nell'area di pokrovsk diretti meglio verso cura cove allora fra ieri e oggi vedete c'è questo piccolo avanzamento nella zona di zelan qui mentre solo questo da un punto di vista russa è un altro avanzamento nel villaggio di ma maximilian vinca qui credo che si veda mentre la loro offensiva diretta verso cura cove non vi posso mostrare immagini ma ci sono i video geolocalizzati è stata affermata qui da una violenta reazione ucraina e così anche è stato contrastato il loro tentativo qui qui questa avanzata qui e così nella zona di limia limia in quest'area qui è stato è stato arrestato le immagini adesso vi mostro giusto per esempio questo è quello che è successo a per esil che si trova qui scusate dove gli ucraini sono riusciti a catturare a liberare parte del villaggio qui in quest'area cambiamo colore qui e qui come vedete questa è una zona liberata quindi in quest'area le forze ucraine stanno dando da fare per liberare parte dei villaggi poi altri combattimenti nella zona di selidove come viene riportato qui questo è in direzione di pokrovsk mentre appunto un assalto russo è stato respinto nella zona di kharkiv qui qui la mostro meglio qui ci sono stati combattimenti è un assalto russo è stato bloccato stessa cosa per quanto riguarda torske i reparti meccanizzati russi sono stati bloccati e quest'altro attacco fra l'altro interessante è avvenuto nella zona di kherson dove c'è stato uno strike missione strike è quando un edificio un bunker un ponte viene distrutto quindi è una missione di distruzione di un obiettivo via ip obiettivo sensibile di valore in questo caso l'attività ucraina si è concentrata su un edificio centro di comando nella regione di kherson che per darci un'idea si trova in crimea almeno poco a nord della crimea sulla sponda del nipro qui e la geolocalizzazione vi faccio vedere ora non posso mostrarvi il video perché si vede questo edificio esplodere vedete questo edificio questo edificio è stato preso di mira ed è esploso l'hanno fatto brillare con qualche bomba di precisione o missile non sappiamo questo edificio vedete l'edificio la strada si vede meglio l'incrocio come è fatto l'incrocio come è fatto l'edificio la geolocalizzazione ci mostra proprio l'edificio questo qui la strada e l'edificio quindi la bomba che si vede esplodere ha colpito esattamente quest'ala con precisione da parte ucraina poi segnalo ancora ribadisco e confermo lo strike effettuato sul più grosso deposito di petrolio in crimea che è stato colpito ed è ancora in fiamme oggi quindi è il secondo giorno consecutivo che le fiamme continuano ad andare e vanno ora vi mostro giusto qualche secondo delle enormi colonne di fumo che si sollevano vedete questo è altra notizia ne avevamo parlato mesi fa avevo dedicato proprio un video al bellissimo mirage 2000 è un aereo stupendo onestamente penso che sia considerato l'aereo più bello del mondo da un punto di vista estetico confermata quindi la notizia che la francia concederà darà i propri mirage 2000 all'ucraina questo è un aereo datato come diciamo storia si può paragonare all'f16 da un punto di vista cronologico e anche le prestazioni non sono molto diverse da quelle di un f16 se parliamo in termini di agilità manovrabilità velocità siamo lì è un aereo straordinario chiaramente non è paragonabile a un f16 come capacità multiruolo però nelle sue corde c'è qualcosa che può fare di sicuro è un vettore che può trasportare bombe bombe plananti in questa foto vediamo per esempio un lancio multiplo di Mark 82 vedo se siano snack eye così a naso e due taniche è un aeroplanino minuscolo sembra più grande di quello che è ma fidatevi è veramente piccolo quindi naturalmente ha una ridotta firma radar vola benissimo a bassa quota insomma sarà un aereo che sicuramente non è un aereo moderno paragonabile a un aero fighter però può dire la sua in particolare per esempio in questa foto lo vediamo classico occupaggiamento per l'interdizione infatti il mirage nasce come filosofia nasce come intercettore prima di tutto cioè un aereo specializzato per il pattugliamento dello spazio aereo e per questo ruolo può farlo con dei missili semiattivi i cosiddetti matra 530 e i cosiddetti magic i matra 530 tra l'altro sono dei missili interessanti semiattivi cioè significa che devono essere guidati fino al bersaglio dal radar dell'aeroplano che li lancia però non so se vi ricordate perché qualche tempo fa in Italia fu sequestrato un matra 530 ci fu questa notizia vediamo se riesco a pescarlo da no metro matra per chi se la ricorda questa fu una notizia eccolo è french è french matra 530 f air to air missile appartenente al Qatar alle forze aere del Qatar è stato recuperato da un gruppo neonazista in Italia ora cosa ci facevano con un missile aria aria semiattivo non è chiaro nel senso boh strani trofei perché alla fine questo missile può essere lanciato solo dal mirage e non ha la capacità di essere autonomo cioè per poterlo usare devi avere un mirage senza il mirage e il radar del mirage non ci fai niente cioè un giusto un oggetto di lo so souvenir un souvenir molto pericoloso però ecco scusate la digressione sul matra 530 ma mi faceva veramente ridere interessante quindi il mirage nel suo ruolo di intercettore può lanciare questo missile che come capacità siamo nell'ordine delle 30 miglia intorno ai 50 scusate 70 km però è un bel missile da un punto di vista di prestazioni si può paragonare è quasi come un AIM-120 B un AIM-120 una via di mezzo fra un AIM-120 B e un AIM-120 C americano come prestazioni per il fatto che deve essere guidato fino a bersaglio questo può essere un handicap se parliamo di guerra aerea moderna nel senso che tutti i moderni missili oggi sono missili attivi cioè una volta che li lanci dopo una prima fase di guida diventano autonomi questo permette al pilota di disimpegnarsi e andare via quando si dice appunto un missile lancia e dimentica i migliori missili al mondo da questo punto di vista oggi che sto parlando sono i nostri Meteor che sono missili avanzatissimi da questo punto di vista a seguire poi ci sono gli AMRA americani gli AM-120 il Matra sicuramente nel ruolo affiancato al Mirage come intercettore puro e nel ruolo di polizia aerea e controllo dello spazio aereo può dire la sua insomma per gli ucraini è meglio averli che non averli e poi soprattutto per la sua elusività la capacità di accelerazione è sicuramente migliore di un vecchio su 27 su questo non ci piove soprattutto perché insomma i missili russi agli ucraini iniziano a scarseggiare e così insomma i su 27 ormai hanno dato quello che hanno detto quello che dovevano dire adesso vengono usati prevalentemente come bombardieri è chiaro che agli ucraini servono caccia intercettori in questo momento quindi i Mirage francesi saranno sicuramente utili meglio averli che non averli confermata poi la notizia di ieri sulla iniziata consegna dei F16 olandesi bloc 52 all'Ucraina che è una gran cosa stiamo parlando di un F16 quasi moderno che è estremamente valido come caccia multiruolo e intercettore estremamente versatile oltre a questo poi gli ucraini hanno discrete forniture di armi per questo aeroplano come le bombe che stanno già utilizzando le J-DAM l'utilizzo delle J-SO che sono dei missili da crociera che potranno utilizzare gli AGM-88 che sono missili pensati per distruggere le difese missilistiche russe proprio pensati per quello nel ruolo specifico che potranno interfacciarsi con le avioniche dell'F16 oltre a questo poi in aria gli ucraini hanno già degli stock di AIM-120 per i loro sistemi in ASEMS sono completamente compatibili con gli F-16 quindi è una gran cosa è stata quindi confermata la consegna di 24 F-16 all'Ucraina quindi queste sono ottime notizie un'altra notizia che non so se definire ottima o meno dipende dai punti di vista e appunto come spesso succede ai compleanni di Putin ci sono degli strani regali le voci di corridoio parlano della dipartita di Gherkin questo generale russo che aveva contestato apertamente il regime ora le contestazioni del regime non dobbiamo vederle necessariamente come una sorta di contestazioni di buonsenso per la pace nel caso di Gherkin le sue contestazioni erano sull'inefficienza delle forze armate sulla corruzione insomma lui voleva fare di più in Ucraina voleva darci dentro e ha contestato apertamente il cremlino per circondarsi letteralmente parole sue di pusillanimi le K Q I ho tolto insomma la L non so se ho reso l'idea insomma il fatto che Putin si circondi continuamente è soltanto di Yesman secondo Gherkin ha generato l'enorme problema che esiste al momento in Ucraina che non porterà da nessuna parte insomma ha usato queste parole e questo insieme ad accuse di corruzione varie eccetera e di scamotaggio le aveva garantito la galera come succede sempre in Russia del resto qualsiasi cosa tu dica contro il regime quindi le voci di corridoio dicono che abbia bevuto un tè scaduto diciamo così qualcosa del genere non sappiamo ma la di partita viene comunicata dai suoi familiari vedremo conferme nelle prossime ore andiamo avanti questi sono dei tipici soldati russi come potete vedere sono è la tipica personale che si ruola per combattere in Ucraina questi sono i volti dei russi insomma sì io non so se è vero ma in Russia a quanto pare c'è questo tipo di carnagione sono ironico ovviamente altra notizia andiamo avanti allora questa notte dei Shahed sono arrivati a colpire Odessa la regione di Odessa che si trova molto a ovest dell'Ucraina Odessa è questa e le immagini che vi ho mostrato di quell'edificio distrutto che è stato colpito in pieno da un drone esplosivo edificio civile arrivano dal porto ok dove è stata colpita tra l'altro una nave mercantile che trasportava cereali qualcosa del genere una nave mercantile proprio su questa rotta che si vede qua questa rotta qui allora le immagini di quel palazzo sono interessanti perché insomma è un esimo edificio civile colpito e insomma Odessa questa notte si è svegliata così ma da Odessa arrivano anche immagini assurde surreali come questa donna questo per dire che le persone confuse con ideali assurdi una visione distorta della realtà non ce l'abbiamo solo in Italia ma esistono anche in Ucraina e questo è un caso a proposito prima di lanciare il video lancio la solita sfida se voi conoscete l'ucraino vi invito a tradurlo postate qui sotto un commento per sentire un po' perché non ci sono i sottotitoli quindi quello che viene detto alla signora è interessante secondo me vorrei tanto una trascrizione grazie bellissimo il sorrisetto insomma di questa folle che va a mettere una bandiera russa al monumento a Caterina insomma la deficienza esiste ed è internazionale abbiamo le prove allora altra notizia per oggi prima di concludere il tribunale di Kursk ha chiesto l'estradizione di Simone Traiani e Stefania Battistini accusati di essere entrati illegalmente nel territorio russo a bordo di un veicolo dell'esercito ucraino questa è una notizia che l'avevo già anticipata insomma la Russia se li becca questi due li butta in carcere quindi sarà interessante vedere la reazione italiana da questo punto di vista altra notizia vabbè questa più che una notizia è giusto un video che poi penso che commenterò anche più avanti magari con Mirko di Parabellum sono delle immagini di un pilota russo questi sono gli eroi della Russia che ci mostra le attività col suo Su-34 sono dei bombardieri sulla base del Su-27 l'aeroplano è quello però è stato trasformato in bombardieri quindi queste sono le attività che vengono fatte e il video vorrebbe essere fico e mostrarci l'eroismo russo quando appunto la sua attività è quella eccole adesso si vedono ve le cerco di mostrarvele meglio ha appena lanciato il suo carico diretto verso l'Ucraina vedete queste qui sono delle bombe convenzionali dotate di ali le cosiddette fab con le ali complimenti poi tutto contento finisce la missione e torna a casa questi sono gli eroi russi ora vediamo gli eroi ucraini questo ragazzo è un medico che viene intervistato ci racconta la sua esperienza e dice abbiamo preso un ragazzo dalla compagnia vicina e l'abbiamo portato al punto di assistenza viene chiamato stabilizzazione point cioè primo soccorso ecco dove è stato curato allora poi dopo questo intervento siamo stati spostati e abbiamo preso una licenza a casa siamo andati in vacanza a casa licenza in realtà quando ero a casa ho ricevuto una chiamata attraverso i social network da un uomo uno sconosciuto ho preso il telefono e lui si è presentato e ha detto ti ricordi di me? ho detto sì naturalmente mi ricordo di te e ha detto beh mio figlio è nato ieri qual è il tuo nome? allora gli ho detto il mio nome perché lui praticamente voleva dare il suo nome al suo figlio appena nato per avergli salvato la sua vita ricordo lui continua a dire ricordo molti di questi casi ho preso mi sono preso cura di molti feriti per fortuna tutti sono sopravvissuti grazie a Dio questo mi ha portato spesso alle lacrime ma non posso piangere perché i miei compagni sono vicino a me quindi non possono vedermi piangere così adesso mi sento un poco un eroe non un eroe in stile Marvel naturalmente ma sì comunque un pochino di eroismo ce l'ho questo è questo ragazzo giovanissimo che fa il medico e penso che lui sia un vero eroe onestamente a parte la retorica un pilota russo che sgancia bombe sulle città ucraine certamente non è un eroe uno che salva vite lo è a prescindere soprattutto visto che spesso gli ucraini li abbiamo visti dare assistenza anche ai soldati russi che vengono catturati quindi questa è la situazione bene cari amici per concludere un video giusto per bellezza questo era un nostro Eurofighter dell'aeronautica militare italiana che scortava Zelesky nel 2023 quando è atterrato in Italia in questi voli in cui lo abbiamo accompagnato e con questo è tutto come sempre fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale mi raccomando le iscrizioni sono fondamentali così come i like qui sotto al video trovate tutti i pulsanti per sostenermi se volete come sempre un abbraccio alla prossima